Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del Tg6. La Regione Abruzzo è pronta a dotarsi di una legge regionale per far sì che gli ospedali dei quattro capoluoghi di provincia abbiano funzioni di idea di primo livello. La conferma arriva dal consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo che inoltre boccia la scelta ministeriale di proseguire con il decreto Lorenzin, il servizio di Stefano Recanati. Si va verso lo scontro tra Regione Abruzzo e Ministero della Sanità. La causa? Il verbale del tavolo di monitoraggio sull'applicazione del DM70, cosiddetto decreto Lorenzin, che dovrebbe ridisegnare la rete ospedaliera regionale destinando alla nostra Regione un unico idea di secondo livello, Pescara, ovvero un superospedale con all'interno tutte le specialità più importanti. Il Ministero non ha accolto l'idea di quattro idea di primo livello nei capoluoghi di provincia, ma sarebbe orientata per i soli nosoccomi di Pescara e l'Aquila. Ad alzare la voce il capogruppo forziste Regione Abruzzo, Mauro Febbo, per cui va garantita un'adeguata assistenza sanitaria in tutte le aree del territorio regionale. E dopo due anni di pandemia, quindi di una richiesta di assistenza diversa di quella di due anni fa, credo che il mondo sia cambiato, noi abbiamo presentato una rete sanitaria che risponde alle esigenze dell'Abruzzo, stando attenti a non eccedere, a non fare richieste che non avevano i piedi per camminare, quindi sempre nel rispetto di quella che è una buona gestione e sana gestione. E stranamente a Roma questo lavoro ci è stato fortemente contestato, tornando indietro, tornando al famoso decreto Lorenzin, un decreto oramai datato, superato, si sta parlando anche a livello nazionale di modificarlo. E questo chiaramente per noi non è pensabile di accettare, non è pensabile nei confronti di un territorio con una morfologia particolare che questi signori non tengono conto. Noi abbiamo tenuto conto di tutto questo, quindi la nostra proposta, che peraltro abbiamo già modificato rispetto ad alcune indicazioni che loro ci avevano fatte, è una proposta che verrà portata in Consiglio regionale. Sarà tramutata in legge, la depositeremo al Ministero e cominceremo una trattativa. Io credo che questo sarà il primo governo regionale in 50 anni che fa una rete sanitaria, ha il coraggio di fare una rete ospedaliera. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che pochi giorni fa si era incatenato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, questa mattina è tornato a manifestare al fianco di alcuni cittadini, anche loro incatenati, per denunciare una situazione definita dallo stesso Pettinari. Drammatica, il servizio di Paolo Renzetti. Al grido di vergogna, vergogna protesta questa mattina di alcuni cittadini che si sono incatenati dinanzi al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara, al fianco del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, per manifestare contro le condizioni del presidio di pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Sì, perché è una situazione infernale, pronto soccorso scoppia, ogni giorno ricevo centinaia di telefonate di persone che non ce la fanno più, persone parcheggiate da tre giorni in attesa in pronto soccorso, tre giorni d'attesa, voi potete immaginare. Perché tutto questo? Mancano i medici, mancano almeno dieci medici in pronto soccorso. Io ringrazio il personale medico, infermieristico, operatori sociosanitari, perché non la è la colpa loro, è la colpa di una programmazione politica errata e sbagliata della sanità. Servirebbero nuovi medici, quindi incentivi per il personale medico, personale sanitario in pronto soccorso, utilizzare l'istituto del precetto, ma soprattutto non depotenziare più gli ospedali minori. Hanno soppresso qualche giorno fa un reparto, la UOS di anestesia dell'ospedale di Pennes, e si depotenziano gli ospedali minori, Penne e Popoli, e si depotenzia la medicina territoriale. Inevitabilmente i cittadini ad imbuto entrano tutti nel pronto soccorso di Pescara, nell'ospedale di Pescara, che scoppia e non ce la fa più. Quindi è una programmazione sanitaria errata. Siccome la sanità, gli ospedali dipendono dalla regione, e la regione purtroppo non comando io, non governo io, i cittadini non hanno messo a me a governare. Io sto in opposizione, non ho potere decisionale. Ci sono loro, quindi chiediamo le dimissioni del Presidente della regione, dell'assessore regionale della sanità, perché evidentemente, a mio avviso, non stanno facendo bene il loro lavoro. Quindi è una critica politica fortissima nei confronti loro. Mi auguro che ci ascolteranno e faranno presto, perché i cittadini non ce lo fanno più. I cittadini non hanno nascosto la loro preoccupazione e la loro indignazione. Noi vogliamo la dignità del cittadino, vogliamo la tutela della sanità pubblica, quindi vogliamo più interesse pubblico verso noi cittadini. Siamo stufi di questi disservizi che abbiamo, siamo stufi. Vogliamo delle risposte concrete da Massilio, siamo stufi. Il problema è questo, che tutti hanno sottovalutato, che adesso le regioni ricche hanno una sanità e una scuola di serie A. Le regioni più povere hanno una sanità e una scuola di serie B e di serie C. Una donna di 81 anni è morta la scorsa notte a causa delle esalazioni di un rogo che si è sviluppato in casa, in una frazione vicino al santuario di San Gabriele. Ad operare i vigili del fuoco di Teramo, il marito 86enne della donna e la figlia sono stati ricoverati all'ospedale di Teramo per intossicazione, ma non destano preoccupazione. Le fiamme, secondo quanto riportano i vigili del fuoco, si sarebbero propagate dal tenelo della casa. L'incendio ha interessato un appartamento posto nel primo piano di un fabbricato in cui a pieno terra è collocato un locale di ristorazione. Una volta all'interno dell'alloggio i vigili del fuoco hanno individuato il corpo dell'anziana riverso sul pavimento del corridoio. La donna è stata portata rapidamente fuori dall'alloggio dove il personale sanitario ha provveduto a eseguire le manovre di rianimazione senza esito e pertanto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'anziano marito e la figlia, che hanno respirato un po' di fumo prima di uscire dall'appartamento, sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati con una ambulanza del 118 all'ospedale Mazzini di Teramo per gli accertamenti del caso. Dalle 2035 stoppa la vendita di auto a benzina e diesel con lo scopo di abbattere le emissioni di anidride carbonica. Questo però avrebbe una ricaduta su tantissimi posti di lavoro anche nella nostra regione. Vediamo. Tagliare del 55% le emissioni di anidride carbonica e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Questo è l'impegno del Parlamento europeo che ha dato l'ok allo stop alla vendita di auto a benzina e diesel GPL dal 2035. Una scelta che andrebbe ad incidere pesantemente sulla manovalanza impiegata negli stabilimenti produttivi. A rischio in tutta Italia infatti ci sarebbero 70.000 posti di lavoro nell'industria automotive legata alla produzione di componenti che non serviranno per l'elettrico. Ricadute negative sono previste anche per la nostra regione in difficoltà ormai dal 2021. Sull'automotive già ci sono segnali di rallentamento piuttosto significativi a partire dal 2021. Probabilmente questo primo trimestre del 2022 i cui dati saranno pubblicati in giornata da parte dell'Istat segneranno io credo un ulteriore problema per quanto riguarda questo settore che io considero il settore fondamentale dell'economia abruzzese perché tutti i dati che noi abbiamo a disposizione segnalano un automotive che è addirittura al quarto posto come incidenza sul totale a livello nazionale dopo le grandi regioni, Piemonte, Emilia, Lombardia e c'è una cultura manufatturiera significativa che sostanzialmente ha prodotto una crescita fondamentale per questa regione. A questo punto il discorso diventa molto più complesso perché siamo in una situazione di instabilità siamo in una fase di aumento notevole delle materie prime siamo al di là delle materie energetiche e soprattutto siamo in una fase inflazionistica e i segnali che provengono anche dalla Banca Centrale Europea sono quelli di un aumento dei tassi di interesse il che potrebbe avere ripercussioni sul progetto diciamo così di rilancio della nostra economia dopo la pandemia e all'interno di questo grande avvenimento che è il conflitto tra Russia e Ucraina. Anche a Pescara come in molte città italiane si è tenuta questa mattina la protesta delle pentole vuote per manifestare contro l'aumento dei prezzi e delle bollette. Il servizio. Anche a Pescara si è svolta la protesta delle pentole vuote mobilitazione promossa dalle associazioni dei consumatori contro le speculazioni, gli aumenti ingiustificati dei prezzi ed il carovita con iniziative che questa mattina hanno riguardato più città italiane. Per quanto riguarda la manifestazione di Pescara oltre agli aderenti di Adoc e Adi Consum hanno partecipato alla manifestazione le associazioni Feder Consumatori e No Green Pass. Al termine i rappresentanti sono stati ricevuti dal prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo. Che nelle pentole non c'è più niente da mettere. Noi abbiamo messo gli scontrini per testimoniare una valanga di aumenti a 360 gradi che sta travolgendo le famiglie italiane in questo momento, in questo momento sta avvenendo. aumenti del 60-70% per l'olio, il 16% della pasta, farina, burro, margarina, ristoranti, parrucchieri, tutto, 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 tutto. Quindi una valanga. Questa è l'immagine che ci è venuta in mente. D'altra parte siamo qui oggi per protestare, sensibilizzare la politica nazionale, locale affinché prendano atto di quello che sta succedendo e facciano qualcosa per impedirlo. E quindi siamo purtroppo anche stati trascurati dal cattivo tempo ma non ci arrendiamo. Questa è una manifestazione che dovremmo continuare a fare. Quello che facciamo tutti i giorni nelle nostre sedi e raccogliere le proteste dei cittadini già parte da qualche tempo, già siamo qui ma il problema è partito con le bollette. Luce, gas, bollette del 60-70% aumentate rispetto ad un anno fa. I dati Istat prodotti alla fine di maggio dicono questo. Quindi portiamo questa protesta oggi e diciamo alla politica ascoltateci perché temiamo il peggio. Temiamo che la situazione possa peggiorare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ecco perché oggi c'è stato questo tappo. Le opportunità e i progetti con il PNRR per il Comune di Pescara. Ne ha parlato questa mattina il sindaco Carlo Masci che ha illustrato anche la speciale sezione presente sul sito istituzionale del Lente. Vediamo. Da oggi sul sito istituzionale del Comune di Pescara c'è una speciale sezione dedicata al PNRR ai progetti che riguardano proprio l'ente. Sì, era fondamentale predisporla perché tutti parlano di PNRR però noi vogliamo fare in modo che i cittadini conoscano perfettamente l'iter legato all'acquisizione di finanziamenti per rigenerare le città perché il processo è questo. Noi parliamo di transizione ecologica, transizione ambientale, transizione civica, transizione digitale, di rigenerazione urbana, di scuole nuove, di efficientamento energetico, tutti interventi che cambieranno il volto della nostra città. Lo facciamo anche informando i cittadini. Questo sito che noi abbiamo istituito con una sezione apposita dedicata ai finanziamenti PNRR all'interno del Comune di Pescara ci permetterà e permetterà ogni cittadino di avere coscienza e cognizione di quello che il Comune sta facendo e di come si ottengono i finanziamenti e di quali lavori si stanno facendo. Il sito è molto chiaro, è molto semplice da utilizzare e ci sono schede specifiche per ogni intervento che permetteranno al cittadino di capire che intervento si va a fare e soprattutto quale vantaggio porta quell'intervento alla comunità in generale e anche al risparmio delle risorse perché oggi è fondamentale avere un risparmio di risorse energetiche perché il prezzo d'energia è scoppiato e dobbiamo fare in modo che ogni struttura sia autosufficiente. Questo è l'obiettivo che vogliamo cogliere così come sull'inquinamento noi vogliamo che questa città sia una città ad impatto inquinante zero quindi mezzi pubblici elettrici che stiamo acquistando mobilità alternativa ci sono tanti processi che si sono avviati vogliamo che i cittadini li conoscano perfettamente e soprattutto diciamo anche che il Comune di Pescara come al solito è all'avanguardia perché questo sito così preciso credo che sia il primo in Italia penso che ci copieranno molti. Un convegno promosso dalla FIRA la finanziaria regionale abruzzese ha messo a confronto attori del sistema economico e delle istituzioni l'obiettivo è capire quali siano i nuovi modelli e gli strumenti per competere il servizio. Il digitale cambia l'economia in che modo? Comunque è un bene e un male ma comunque ormai il digitale ha preso il sopravvento. Ci siamo interrogati soprattutto sull'impatto del digitale nel mondo della finanza. Il fintech è una grande opportunità per avviare il risparmio di italiani verso le imprese anche in contesti dove il territorio non aiuta il credito di prossimità dove la desertificazione bancaria incombe e naturalmente il ruolo delle finanziarie regionali più in generale dei livelli di governo territoriale è molto importante nel promuovere questo tipo di innovazione controllandola, regolandola disciplinandola. Potrebbe aiutare anche i famosi fondi che arrivano dal PNRR? Il tema dei fondi del PNRR è estremamente ampio e variegato. Tendenzialmente quello che noi contestiamo al PNRR è di essersi caratterizzato fino ad ora per un approccio sostanzialmente ideologico che è quello della Commissione in questa fase basti pensare alla transizione ecologica che è stata imposta con dei ritmi pensiamo ad esempio al diveto di auto a combustione interna nel 2035 è del tutto incompatibile con la sopravvivenza dei nostri distretti industriali un allarme che il mio partito ha sollevato per tempo e che è stato recentemente ripreso proprio ieri dal Ministro Giorgetti una stessa cosa vale per la transizione digitale in Italia ad esempio abbiamo un forte problema di sicurezza delle infrastrutture digitali quindi prima di affidarci interamente ad esse bisogna riflettere bene sulla loro affidabilità sia sotto il profilo della continuità del servizio che sotto il profilo della tutela dei dati individuali il Tar nega la sospensiva al ricorso di Finori contro la vendita ai fratelli Persia degli impianti di risalita di Prati di Tivo e di Prato Selva stamani si è riunita in provincia l'Assemblea della Gran Sasso Terramano che ha preso atto della sentenza del Tar e fissato entro il 18 giugno la data per la firma della vendita della società l'Assemblea invece tornerà a riunirsi il 20 di giugno Tania Bonnici Castelli è una partita al cardiopalma quella che si sta giocando sul futuro del comparto sciistico di Prati di Tivo e Prato Selva il Tar dell'Aquila non ha infatti concesso la sospensiva alla vendita della Gran Sasso Terramano richiesta dal gestore temporaneo Marco Finori il ricorso di Finori aveva di fatto bloccato la vendita degli impianti e la concessione della cabinovia ai fratelli Persia che si erano aggiudicati il bando per 1.590.000 euro il Tar ha giudicato che le contestazioni del ricorrente dovranno essere valutate da un giudice ordinario in quanto come si legge nella sentenza nel caso di specie si deve rilevare come la Gran Sasso Terramano S.P.A. è una società mista che a veste privatistica svolge un'attività di tipo strettamente imprenditoriale ed opera per tale ragione in un settore aperto alla libera concorrenza corsa dunque contro il tempo per salvare la stagione estiva e per farlo si è appena riunita nella sala consigliare della provincia di Teramo l'assemblea dei soci del GST convocata dal liquidatore Gabriele Di Natale per portare a conoscenza in via ufficiale della sentenza dopodiché come già deliberato si procederà con le procedure di vendita ai fratelli Persia un'operazione che si dovrebbe concludere in pochissimo tempo per permettere già dal mese di luglio un'offerta turistica completa la vendita degli impianti di risalita delle due località sciistiche Teramane e la concessione sino al 2029 della cabinovia che resta di proprietà della provincia porterà in sé anche tutta una serie di risoluzioni positive a problemi annosi nei confronti di alcuni comuni montani saranno infatti sanati i vecchi debiti con il comune di Fano Adriano e pagati i diritti ASBUC Marco Finori dopo aver appreso la decisione del Tar ha dichiarato di non volersi arrendere e di voler continuare la sua battaglia ricorrendo alla giustizia ordinaria questo però non impedirà alla GST di vendere le infrastrutture ai fratelli Persia e conoscendo i tempi della giustizia è possibile immaginare che per i prossimi dieci anni a gestire gli impianti di risalita di Prati di Tivo e Prato Selva saranno proprio loro sono state impugnate le delibere del 2022 che hanno disposto all'aumento dei canoni da parte del Consorzio di Bonifica Centro a farlo è stato il neo costituito nel Comitato Bonifica Sostenibile vediamo Aumenti insostenibili dei contributi richiesti dal Consorzio di Bonifica Centro che vanno a impattare su circa 37.000 utenze del comprensorio Chieti Pescara e la denuncia del neonato Comitato Bonifica Sostenibile che intende intraprendere una serie di azioni per fronteggiare incrementi che ricadono su privati e soprattutto su utenze agricole in particolare chi deve pagare il canone il riguo con aumenti del doppio dell'importo se non in alcuni casi del triplo dal 2017 da quando il Consorzio è in gestione commissariale primo passo del Comitato è l'impugnativa dinanzi al Tarabruzzo di tutte le delibere del 2022 con cui sono stati stabiliti questi incrementi che peraltro dalle disamine degli atti ufficiali non seguono gli indirizzi normativi e regolamentari che l'ente si è dato e poi ampio coinvolgimento istituzionale su questa problematica che trae origine secondo il Comitato dalla mancata riscossione di crediti milionari da parte del Consorzio poiché le amministrazioni locali che dovrebbero liquidarli non pagano e sono insolventi gli enti locali sono diciamo in difficoltà come tutti in questo periodo alcuni enti lo sono ancora di più mi riferisco al Comune di Chieti e all'ACA che sono diciamo parte dei maggiori debitori nei confronti del Consorzio di Bonifica infatti il primo passo oggi è la presentazione di questo Comitato che però ha la finalità di innanzitutto evidenziare le criticità che ci sono anche perché sono state oggetto di un approfondimento tecnico e portare queste criticità su tavoli istituzionali di colloquio sia con gli enti ma soprattutto con il Consorzio di Bonifica e la Regione perché questo problema non può risolversi se non con la partecipazione e con il coinvolgimento e sinergia di enti locali Comune Regione e Consorzio Ora lo sport prevista per oggi l'assemblea dei soci della Teramo Calcio che sta cercando di trovare una strada per permettere al club biancorosto di avere le carte in regola per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro intorno alle ore 15 dovrebbe ricominciare l'assise sospesa lunedì pomeriggio per valutare eventuali manifestazioni di interesse la novità dell'ultima ora riguarda il fatto che l'assemblea di oggi potrebbe essere nuovamente sospesa convocata per l'inizio della prossima settimana sullo sfondo infatti ci sarebbe una nuova pista un gruppo imprenditoriale di Roma che potrebbe essere interessato al Teramo parallelamente continua a rimanere in piedi la pista delle sponsorizzazioni in grado di garantire la liquidità necessaria nelle ultime ore è rimbalzato il nome di Carmine Moretti che secondo l'edizione odierna del messaggero avrebbe incontrato nei giorni scorsi Franco Iachini e Davide Ciaccia anche se l'imprenditore ha smentito di essere parte di una cordata più ampia ovviamente le eventuali manifestazioni passano dall'avallo del tribunale capitolino che allo stato attuale custodisce la maggioranza delle quote sociali del 60% potrebbe dunque servire ulteriore tempo per definire se questa sia la strada per permettere alla società bianco-rossa di essere i nastri di partenza del prossimo torneo entro il 22 giugno infatti va presentata la documentazione per l'iscrizione al campionato corredata anche dalle garanzie fideiussiorie cambiamo disciplina per la prima volta Chieti ospita un torneo ITF il World Tennis Tour Lazzaroni Cup torneo internazionale di tennis maschile tra i tennisti internazionali arriva anche il romeno Filippo Cristiano Ianu numero 301 del ranking mondiale Serena Secondi è il primo evento internazionale di tennis che si disputerà in città con un tabellone original cutoff straordinario perché si avvicina ad un challenger 50 punti avremo Maestrelli il giocatore che ha fatto finale al Francavilla due o tre settimane fa tanti giocatori stamattina mi ha contattato la federazione portoghese arriveranno quattro giocatori portoghesi speriamo veramente una gran settimana al posto di Chieti ci doveva essere Termoli e dopodiché nel side check che si è fatto a Termoli si è scoperto che a Termoli nella stessa settimana c'era il raduno dei bersaglieri e che quindi non c'era alcuna ospitalità mentre andavo via da Termoli desolato ho chiamato il presidente Marianetti Mauro Febbo per la regione i primi contatti c'è stata la disponibilità di Chieti e se partiti con questa grande avventura parliamo di metà aprile quindi in un mese e mezzo si è fatto tutto non c'è un vero favorito del torneo anche se guardando l'entry list risaltano le presenze del rumeno Filippo Cristiano Iano numero 301 al mondo e degli italiani Francesco Forti 334esimo e Francesco Maestrelli oltre che Alexander Weiss 413esimo dispicco anche la partecipazione del 26enne Stefano Napolitano oggi numero 597 del ranking mondiale ma nel giugno 2017 era arrivato fino alla posizione 152 cospicuo il monte premi grazie all'azienda Lazzaroni che da anni rinnova la fiducia nella gestione del circolo tennis di Chieti un circolo che cresce gradualmente sia in termini di esperienza che di capacità organizzative e che punta sempre su eventi più ambiziosi come questo torneo da 15.000 dollari E' bene che si diffonda anche per la forza da dare agli altri imprenditori a voler fare la stessa cosa per il bene ovviamente territoriale collettivo per condividere soprattutto un valore umano sociale in primis che va diffuso a tutte le persone giovani e adulti che possono godere di questo piacere che è la nostra città perché la risonanza è internazionale ma chi ne gode appunto è il territorio chietino il territorio chietino e soprattutto anche il territorio regionale perché la Lazzaroni è un nome italiano è un nome mondiale però abbiamo il piacere di averlo noi come regione Abruzzo ma soprattutto avere il proprietario e l'amministratore che è di Chieti a Pescara torna lo sport non va in vacanza l'iniziativa di carattere ludico sportiva riservata a oltre 600 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni al via da lunedì 13 giugno vediamo con orgoglio voi oggi presentate questa edizione dello sport non va in vacanza grandi numeri per una bella manifestazione che torna in presenza in tutti i suoi aspetti il sessore dello sport infatti sono molto soddisfatta l'amministrazione comunale in sinergia con il CONI regalerà due mesi all'insegna del grande divertimento socializzazione svago e all'insegna dello sport ma soprattutto alla scoperta di nuove discipline e questo è il nostro obiettivo ormai sono 19 anni che c'è massima sinergia con il CONI e Abruzzo è detto bene non solo per lo sport non va in vacanza ma per altre attività sportive e soprattutto per tanti eventi sportivi c'è una grande collaborazione grande sintonia e quindi siamo pronti per affrontare questa avventura insieme anche nei prossimi mesi Torna una delle attività più importanti del CONI Abruzzo lo sport non va in vacanza a Pescara dopo due anni di emergenza sanitaria si torna alla normalità si torna in presenza con tante attività in città Assolutamente sì il CONI è veramente contento di poter riprendere questa attività che coinvolge tutta la città abbiamo avuto 665 iscritti ad oggi più ci sono dei ragazzi penso una quindicina extra che pure parteciperanno le sedi saranno chiaramente lo stadio il Volta dove si farà l'attività piscina e poi dentro il Volta ci sono tutte le attività anche atletica e poi abbiamo altre due sedi che avevamo opzionato tra cui quella della spiaggia ma la spiaggia purtroppo pochi avevano opzionato la spiaggia come ragazzi e poi in effetti ci richiedeva un controllo troppo importante effettivo comunque siamo veramente contenti finalmente dal 13 di giugno inizierà questo sport non va in vacanza e tutti noi saremo presenti a affiancare i nostri istruttori i nostri coordinatori che abbiamo selezionato con cura presso il CONI in questi giorni prima dell'inizio dell'attività a breve i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma youtube oppure sul nostro rinnovato sito www.tv6.it prossimi appuntamenti con la nostra informazione ITG del 19 e del 23 grazie per l'attenzione e un buon proseguimento per i nostri programmi